Si può ancora aggiungere qualcosa nel mondo degli shampoo neutri? Noi crediamo che Labo Cosmetica ci sia riuscita con Semper, terzo ed ultimo passaggio del ciclo 3PH. Chi ha utilizzato Semper difficilmente lo sostituirà con un altro shampoo neutro. Dal profumo che rende straordinario l'ambiente di lavoro, alla sua lubrificazione che lo rende particolarmente scorrevole nel momento in cui andate ad utilizzare il vostro guanto o la vostra spugna preferita, alla sua delicatezza, perché Semper è particolarmente efficace anche su cere, sigillanti o rivestimenti nanotecnologici. Infine il suo potere pulente, stiamo parlando di un neutro, sì, ma Semper pulisce, pulisce davvero. Semper è il classico shampoo neutro da utilizzare nel secchio. Labo Cosmetica consiglia una forbice di diluizione tra 800 a 1 e 1500 a 1. Noi amiamo utilizzarlo stando nel mezzo, attorno al 1000-1200 a 1. Semper è particolarmente semplice e gradevole da utilizzare. Dopo aver scelto la diluizione, dovete versare lo shampoo nel secchio, immergere il vostro guanto o la vostra spugna preferite e insaponare l'auto. Al termine, risciacquare bene.